Salve a tutti, bentrovati, ben ritrovati a Ansia di Arte. Il nostro purtroppo, dico purtroppo perché mi sono divertita davvero tanto insieme al nostro ormai affezionato artista Maurizio Monti e il nostro ultimo appuntamento, Maurizio se tu sei d'accordo io comincerei, dato che conosco bene il nostro andazzo diciamo, comincerei subito così ci mettiamo il ferro dietro le spalle e parliamo di tutto quello che dobbiamo analizzare, lo analizziamo e dopo divaghiamo nelle nostre piacevoli... Il mio collezionista Antonio Lacagliari che è... Esatto, descriviamo questo bellissimo quadro che ancora una volta ritrae una rosa, ancora una volta ritrae la donna. Esatto, questo comunque è un atto di presunzione perché mi sono voluto misurare, questo qui è la dane di Perseo, mi sono voluto non misurare perché sarebbe proprio da stupidi, è un soggetto sviluppato da Rubens, Rebrandt, Gentileschi, figlia e padre, Correggio, Waterhouse... Ed è interessante vedere come cambia totalmente la tua... Esatto, io ho voluto provare col mio linguaggio, col mio... com'è che hai detto prima che mi piaceva quella frase? Alfabeto semantico... Codice semantico... Codice semantico... Ti piace? Ah, mi piace questa cosa perché me la scrivo e me la gioco... Codice semantico... Sai, io dopo, nel mio alfabeto ci sono le rose e ci sono le donne, qui ho unito le due cose, è una scusa fare la dane di Perseo, allora la storia è molto semplice... E' bellissima questa cosa, è una scusa, è bellissima questa cosa di usare un pretesto, usare un tema come pretesto per sviluppare le arti... Sì, ma sin dall'antichità il pretesto della dane normalmente era fare una donna nuda a quei tempi che non si poteva fare... Come il pretesto dell'arte classica, teatrale, artistica anche... E il pretesto mitologico era per parlare di tutt'altro, per fare educazione, pedagogia... Esatto, la dane, che sarebbe figlia di Acrisio, re di Argo, Acrisio aveva avuto una premonizione che sarebbe stato ucciso dal figlio della figlia, perciò si racchiude dane dentro la torre, che quel furbo di Giove che andava in giro a impollinare un po', si trasforma in goccioline d'oro e la mette in centa e nasce Perseo. Acrisio lo dovrebbe uccidere, invece lo mette dentro un boule di legno, lo butta in mare, questo lo salva Nettuno e così via. Insomma, poi per sé è quello che poi ha ucciso la medusa, se non l'ha derrata. Vabbè, e io ho preso questo pretesto, adoperando il mio alfabeto, come vedi c'è la rosa che è proprio il centro della vita, il ventre della donna. Se te vedi la forma prosegue dappertutto e c'è questa donna appoggiata a questo fiore che si trasforma in nube e ci sono le varie cose. La nube si trasforma in Giove, lassù c'è il volto alto, che poi vagamente si vede che sono rimasto impressionato l'ultima volta, sono andato agli uffici e ho visto la faccia della Conte. Però sai, quando disegni fai quello che ti rende. Che tra l'altro ha impressionato tantissimi artisti. È una cosa bellissima la Conte. Mi ricordo, c'è una definizione di non mi ricordo chi, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau forse, a proposito della Conte, che definisce l'essere artista, l'avere talento, il genio. Il genio chi è? Sei genio se quando vedi la Conte ti emozioni, piangi e ridi. Madonna, mi posso montare la testa perché proprio la Conte mi ha impressionato. Quando sei di fronte a queste opere, sono andato a vedere una mostra di Caravaggio, Milano, Palazzo Reale, due o tre anni fa, c'era Caravaggio e i Caravaggeschi. Di fronte alle opere di Caravaggio, ti viene, guarda, gli altri bravi, però non ti arriva quella cosa lì. Si vede che c'è questa empatia, solo i grandi riescono a trasbettare. Ah, poi Caravaggio, diciamo che è... Eh, vabbè, lì siamo al massimo, vabbè. Comunque, questo è l'opera, la Dane, che poi è una scusa, Tiziano la chiamava la sua poesia, la Dane, bellissimo quel quadro lì, poi l'ha fatto la Gentileschi, l'ha fatto persino Klimt, l'avevi visto quella di Klimt, bellissima. Lui poi è facilitato perché è tipo il bacio, ci sono queste goccioline d'oro, lui lo parlava sempre, questi... E' bello vedere come a seconda del, appunto, del ritorno al codice semantico, del periodo, del background culturale, come cambia la... E' interessante partire proprio da un tema mitologico e nelle sue varie... Sì, sì, perché poi è una buona scusa, hai capito, perché poi ti dà degli input, ti puoi immedesimare nel periodo, puoi rapportare quel periodo a questo... Allora, Maurizio, ti faccio un'altra domanda. Allora, tu hai dato una definizione molto interessante della pittura, assimilandola, accostandola a quello che è definito un linguaggio... Posso leggere? Ha un linguaggio svuotato dalla sua valenza semantica, ma aggrappata solo a colori, simboli e segni che ne vivificano la presenza, rendendo l'esperienza visiva, prima di tutto. Ma è così, è un linguaggio a parte, non composto di parole. Svuotato dalla sua valenza semantica, quindi svuotato dalla sua significazione, quindi non c'è una significazione preventiva all'interno del contenuto delle opere, ma... Del linguaggio delle opere. L'opera è viva prima di tutto, vivificata nella sua bellezza, nella sua apparizione estetica, prima di tutto. Qui vediamo una delle tue, anche qui, una delle tue serie, diciamo, chiamiamola così, una delle tue serie. Che cos'è questo? È un... È una nicchia, è una nicchia del tempo, una nicchia può essere una situazione. Io poi, sai, faccio tutti i miei giochi, perché su un quadro ci sto 10-15 giorni, di conseguenza mi devo inventare una storia e parto. Sì, no, ma è così, proprio, purtroppo, ritorniamo al mio difetto che abbiamo detto l'altra volta, che sono sincero. E questa qui è una nicchia, per me le nicchie rappresentano situazioni e su queste ci puoi giocare come ti pare. C'è la rosa, c'è la pietra che schiaccia lo stesso colore della rosa e di conseguenza schiaccia il talento. Ma però questo è il significato che gli do io. Il fruitore, in base al fattore umano, anche lì c'è un volto nascosto, in base al fattore umano la vedrà come vuole. Io do degli input, non do delle verità, do solo degli input. Esatto, tu hai detto il volto umano, il fattore umano. Il fattore umano, qui vediamo le immagini scorrono e vale la pena veramente dedicarli, non vorrei perdermi in chiacchiere, vale la pena dedicarvi descrizione. Queste poi sono tutte opere vecchie di qualche anno fa, è un periodo che volevo strappare qualche cosa, si vede. Eh sì, perché fanno parte di quella serie degli strappi dell'anima, abbiamo definito strappi dell'anima. E anche questo, questo è bellissimo. Il via di fuga, vedi questa cosa molto scura, poi in mezzo a quel tempio c'è un sacerdote a braccio aperto, molto piccolo, qui non si vede, che è quello che dà il senso a tutta la cosa. E anche qui, come vedi, c'è la proporzione aurea, mi viene quasi istintivo, poi vado ad analizzare e ci becco. Tornando al discorso che ti dicevo prima, quindi un'opera svuotata dalla sua valenza semantica, mi viene in mente, dalla sua significazione quindi. Mi viene in mente, quindi se è così, ed è così, non rischia l'opera, la tua in particolare, ma in generale l'opera artistica, non rischia di non essere compresa dal fruitore che non condivide il tuo stesso background culturale. Quando si crea questa intermittenza, quando si crea questa antitesi, questa antitesi conflittuale, perché è conflittuale, e quindi quando non si condivide, non si condivide... Sì, sì, non è lo stesso percorso, si è culturale. Cosa accade? Cosa accade nel piano artistico quando l'intenzione, la significazione che l'artista attribuisce ad un tema, ad un contenuto, ad un codice semantico, non viene compreso allo stesso modo dal fruitore? Quasi mai viene compreso, perché è proprio, è quasi una regola, perché i percorsi sono diversi, la cosa deve arrivare direttamente ai centri emozionali senza le parole, senza le cose, di conseguenza se hai una cultura diversa, la pensi in maniera diversa, eccetera, raramente riesci a entrare. L'arte però ci insegna, la più recente storia dell'arte, più recente relativamente poi, ci insegna che hanno inventato la figura del critico d'arte, che fa, che decodifica il messaggio e lo trasmette, cioè nel senso che... Secondo la sua cultura. Esatto, questo per... Ma soprattutto secondo le sue frustrazioni. Esatto, perché apparentemente ad un primo livello si dice, vabbè, il ruolo del critico, così come il museo, i luoghi deputati all'arte e quindi la critica, che è nata in epoca moderna, la critica d'arte è una cosa assolutamente presente. Allo scopo di decodificare, di una mediazione, no? Tra l'artista, il suo genio, il suo intelletto, le sue visioni, le sue comprensioni e il fruitore, cioè aiuta questo passaggio di informazione. Si dice che aiuti, ok, però infatti analizzando a fondo... Ti provo a prendere un testo di Achille Bonito Viva, per non fare nomi. L'artista decodifica il messaggio, cioè il critico decodifica un messaggio che a sua volta l'artista ha decodificato al suo interno, quindi è una continua trasformazione. È un gioco di rimandi che alla fine lui dice quello che vuole e l'artista fa quello che vuole, poi è un discorso molto semplice. E il fruitore capisce quello che vuole. Capisce quello che vuole, esatto. Comunque è un inno alla libertà che è giusto portare avanti, diciamo, in qualche maniera. Hai, scusami, hai anche definito, un'altra definizione che tu hai dato della pittura, dell'arte in generale, dipingere è un'idiozia totale. No. Hai detto. Sì, ma sai, se ci pensi, come ho detto, adesso non mi ricordo, in una puntata, se ci pensi bene, c'è questo povero disgraziato, sedere davanti a un cavalletto con una tela, dei colori che oltretutto puzzano e due peli di bue. E deve far sognare quello che forse un giorno lo vedrà, proprio da suonati, cioè per essere non normali per mettersi, cosa dici? In questo senso, non è che sia un'idiozia totale. Ti faccio un'altra domanda. Tu hai viaggiato molto, hai ormai alle spalle quanti anni di catiera? Parecchi. Possiamo dire da sempre? Da sempre. Facciamo i romantici, diciamo da sempre? Da sempre, è bellissimo. Quando dicono da sempre, che vuol dire adesso? Che cosa da sempre? Allora, i primi concorsi pittorici avevo 12-13 anni, perciò adesso ne ho 63. Ecco, una cinquattina da sempre. Quasi da sempre, facciamo quasi da sempre. Da una vita, una vita. Da una vita. Hai viaggiato molto. Però la bellezza è proprio il linguaggio capibile da tutti. Ero a Seul, a una mostra, di fronte a una mia rosa, ho visto negli occhi di una signora lì, che poi tra parenti dopo ho scoperto che era l'ambassatore della cultura giapponese. Ah, insomma, un personagino così. Sì, un personagino, ma l'ho capito dopo, perché lì poi, infatti, il traduttore inglese parlava con quello lì, poi che ho avuto con me, buona. Insomma, aveva gli stessi occhi lucidi come a New York, in una mostra, c'era un marense appena tornato dall'Iraq, sembrava Tyson, una roba immersa, si era commosso di fronte alla stessa rosa che avevo portato lì da quella fiera, nella stessa maniera, perciò era un linguaggio universale. E questa mi è la pelle d'oca, perché io sono un romantico, sono un sanguigno, io sono un sanguigno appassionale, perché la vita vale la pena viverla, se la vivi con passione, altrimenti non ne vale la pena. E proprio in relazione ai tuoi mille viaggi, al fatto che la tua carriera ha proseguito valicando i confini del nostro territorio, tu parli molto e parli bene di cultura, di background culturale, come ti ha colto il mondo dell'arte all'estero, anche la critica, come ti sei inserito all'interno di un sistema artistico diverso dal nostro? Ma sai, io non è che si è inserito in quel sistema lei, io sono inserito un po', sì, vabbè, però sai, conto fai una mostra, viene un po' di quadri, eccetera, però io parlo quelle 15-20 parole di sopravvivenza, di inglese, di conseguenza ho bisogno del traduttore. Hanno inventato i traduttori, come hanno inventato i traduttori, come hanno inventato i chinesi, viaggiarsi perché i traduttori, e ti confronti con questa cosa. L'unica cosa che ho visto, che comunque, come ti dicevo, l'arte figurativa è più apprezzata lì, perché qui la prima cosa che fanno i critici, vabbè, figurativo, e passano oltre. Là, no, là, figurativo. Poi sei italiano, già sei italiano e ti ascoltano, poi vedi che sei figurativo, li vedi, ti trattano con rispetto, è un'altra maniera di concepire. Sempre per quel discorso che facevamo prima. Sì, è un'altra maniera, poi c'è più rispetto, insomma, per l'artista in genere. Ritornando a, diciamo, alle tue tecniche, c'è qualcuno, un artista che ti ha influenzato, senti una paternità? Dalì. Dalì? Sì, perché da piccolo copiavo, come ti ho detto, gli affreschi della Cappella Sistina e avevo dei libri di Dalì, e mi piaceva Dalì. Infatti, certe cose, anche inconsciamente, saltano fuori, perché mi piaceva questo surrealismo. Lui ha un approccio molto, aveva un approccio molto colto con Freud, con tutta la psicanalisi, ma il surrealismo, il gioco, lui ce l'aveva, perché se vedi delle sue cose, lo vedi che comunque affronta temi importanti giocando. Giocando. Perché è l'unica maniera. E questo è un po' quello che fai tu, con i tuoi codici semantici. Ma anche nella vita io l'ho pronto così. No, infatti, ormai abbiamo imparato, diciamo, a conoscerti, io purtroppo, ne sono davvero dispiaciuta. Sì, già. Ti devo salutare, perché è finito il tempo, però mi prendo altri cinque minuti per ringraziarti davvero di essere venuto qui, è stato bellissimo. Io, prima di tutto, mi sono divertita, mi è stato anche interessantissimo, al di là del gioco a cui abbiamo preso parte. Potevamo fare dei discorsi complicati, era bellissimo. Potevamo, sì, certo. Però non l'abbiamo voluto strafare. Potevamo fare un sacco di cose, saremo stati in grado, facciamo così, diamoci delle aree. Vai. Va bene, io vi saluto, vi rimando all'appuntamento della prossima settimana, in studio un artista, ovviamente, un ospite nuovo. Ciao a tutti, mi raccomando, salutiamo ancora una volta Maurizio Monti. Ciao.